A voi telespettatori, ben ritrovati, una nuova edizione, il Tg Oristanese. Oggi apriamo con la politica. Nasce la nuova giunta Luzzo. Sentiamo i dettagli nel servizio. È nata la nuova giunta comunale di Oristano. Il sindaco Luzzo ha infatti firmato i decreti di nomina, assegnando le deleghe agli assessori. Il nuovo esecutivo risulta così composto. Sindaco Andrea Luzzo, Massimiliano Sanna, vice sindaco con delega a Cultura, Francesco Pinna, assessore ai lavori pubblici, Carmen Murru, assessore ai servizi sociali, Angelo Angioi, assessore al bilancio, Gianfranco Liccheri, assessore all'ambiente, Maria Bonaria Zedda, assessore allo sport. La nuova giunta comunale nasce al termine di un confronto politico e programmatico che a metà del cammino della consigliatura era doveroso, ha affermato il sindaco Luzzo. Il quadro politico di oggi è evidentemente differente da quello del 2017. In queste settimane ci siamo dunque confrontati con i partiti del centrodestra, con l'obiettivo condiviso di uniformare il panorama cittadino a quello regionale. Nel momento in cui nasce il nuovo esecutivo, mi sento di rivolgere un sincero ringraziamento agli assessori uscenti, Puppa Tarantini, Stefania Zedda e Gianfranco Sedda, ha aggiunto il primo cittadino ristanese. Hanno svolto un lavoro incomiabile, contribuendo ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite collegialmente con il resto della Giunta e con il Consiglio Comunale, a conseguire importanti risultati. Ai nuovi assessori, Maria Bonaria Zedda e Angelo Angioi, l'augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno mettersi al servizio della città, per il rilancio dell'azione amministrativa nel solco delle linee programmatiche di mandato, ha concluso Luzzo. Passiamo alla cronaca. I carabinieri di Terralba, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Oristano, hanno arrestato MM, 58 anni, disoccupato di San Nicolò d'Arcidano, già noto alle forze di polizia. MM è stato fermato la scorsa notte dai militari perché è sorpreso a cedere una dose di cocaina e una di marijuana a un uomo del paese e a una ragazza di Terralba, segnalati alla prefettura di Oristano quali assunturi. I carabinieri hanno provveduto a perquisire l'uomo e la sua abitazione, nella quale hanno trovato 0,6 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, due bilancini di precisione e 400 euro, probabili proventi dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Blitz antimafia, in tutto 4 gli arresti in Sardegna. Vediamo. L'Andrangheta calabrese e la camorra napoletana hanno messo radici pure in Sardegna. Sono accusati di associazione a delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, i quattro sardi arrestati nell'ambito di un'importante operazione che ha sbantellato due gruppi criminali che gestivano il traffico di droga nella capitale. In carcere dunque sono finiti Luca Zedde, 30 anni, nato a Sorgono, considerato il vertice del gruppo criminale sardo, Francesco Fenu, di 48 anni, di Villamar, il coetaneo Giovanni Meloni di Gergei e Roberto Nairi, 56 anni, di Cagliari, tutti i personaggi giannotti alle forze di polizia. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, Zedde teneva i contatti con Vincenzo Polito, il capo calabrese di una delle due organizzazioni criminali, occupandosi del traffico di droga dal Lazio alla Sardegna. In particolare le indagini condotte sul conto di Vincenzo Polito, spiegano i carabinieri, hanno permesso di accertare che questi inviava, periodicamente, ingenti quantitativi di narcotico. In una circostanza è stata accertata l'accessione di 21 kg di cocaina a Luca Zedde, il quale, a capo di un'organizzazione criminale sarda, acquistava lo stupefacente e versava quanto dovuto a Polito per il tramite di Francesco Fenu. Gli arresti dei quattro sono stati portati a termine dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari e Oristano. Alle operazioni hanno partecipato anche i cacciatori di Sardegna. Incidente questa mattina, a Oristano davanti al terrapieno dove sorge la statua di Padre Pio vicino all'ospedale San Martino. Un uomo al bordo del suo scooter si è scontrato contro un'automobile avendola peggio e finendo a terra. Le sue condizioni sono parse subito piuttosto gravi. Immediato il trasporto al pronto soccorso in codice rosso. Manuel Tatti, il motociclista rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto a Donigala lo scorso 12 gennaio, è stato trasferito nei giorni scorsi all'ospedale San Martino di Oristano. Il ragazzo si trova in coma, vigile nel reparto di rianimazione, in attesa di essere trasferito nel reparto di neuro-riabilitazione. E ora passiamo ad un altro argomento. La Capitaneria di Porto ha ordinato l'interdizione dell'area di mare antistante la Torre Aragonese di Seu. Vediamo. Interdetto lo specchio d'acqua antistante la Torre Aragonese dell'Oasi Naturalistica di Seu. L'ordinanza della Capitaneria di Porto è stata diffusa ieri 3 febbraio, ma è in vigore dal 24 gennaio, emanata a seguito delle note con le quali il sindaco di Cabras, Andrea Abis, denunciava la situazione di forte degrado della Torre e della Falesia sottostante. Seguivano poi le specifiche richieste rivolte dall'Agenzia regionale del Demanio alla Capitaneria di Porto, proprio per valutare l'interdizione dell'area di mare antistante alla zona pericolante. Decorrenza immediata dell'ordinanza comunica il capitano di fregata Antonio Frigo. Sarà pertanto impossibile, d'ora in poi, la navigazione, la pesca, la balneazione e il turismo nautico per un raggio di 50 metri dalla torre. L'amministrazione comunale dovrà avere cura di apporre l'apposita segnaletica, ben visibile e redatta in più lingue recante gli estremi dell'ordinanza. Voltiamo pagina. Assenza di piuge, il commissario Carus ha convocato un incontro urgente. Vediamo. Non piove, non pioverà, secondo le previsioni, anche per le prossime settimane. È una condizione che non aiuta le coltivazioni. Il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, Cristiano Carus, ha convocato per venerdì 7 febbraio un incontro con Coldiretti e Confagricoltura. Con la deliberazione dello scorso gennaio abbiamo stabilito che la stagione in rigua avrà inizio dal 1 aprile con possibilità di anticipazione al 1 marzo, al fine di garantire l'errigazione di soccorso in tutti i distretti irrigui dove ciò fosse necessario e possibile. Ma a causa dell'assenza di precipitazione e dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, ho ritenuto importante convocare un incontro con le organizzazioni di categoria per fare il punto sulla situazione, ha dichiarato il commissario Carus. Il caldo invernale e le piogge estive stanno mandando in confusione i consumatori e gli acquisti fatti sono prevalentemente di ortaggi fuori stagione. Vediamo. Dopo una conclusione di gennaio tutt'altro che invernale con i giorni della merla che si sono trasformati forse in quelli più caldi del mese arriva un avviso della protezione civile che mette in allerta per la giornata di oggi 4 febbraio a causa dei venti forti da nord-ovest localmente di Burrasca in particolare sulle coste settentrionali e occidentali della Sardegna dove saranno anche possibili mareggiate. Oristano al centro della Burrasca quindi secondo le previsioni meteo anche se per la mattinata il sole e le temperature miti hanno fatto da padrone. Temperature che poco aiutano le colture invernali che necessitano invece delle piogge eppure le precipitazioni sembrano quasi più tipiche del periodo estivo ormai con un'inversione delle stagioni che sta mandando in confusione il consumatore caso specifico quello del carciofo spinoso stagione spettacolare che ha dato una produzione eccellente a bloccare la vendita paradossalmente sono le giornate di sole che fanno sì che il consumatore acquisti maggiormente verdure fuori stagione che ormai si trovano tutto l'anno sui banchi dei negozi piuttosto che preferire carciofi cavoli e ortaggi invernali. Giovanni Spano è il nuovo presidente del Consorzio dei Pescatori di Marcedì vediamo La colonia dei Pescatori di Marcedì a suo tempo più numerosa e agguerrita ha un nuovo leader le nove cooperative troppe che fanno capo al Consorzio e nelle quali si ritrovano i 110 pescatori della marineria hanno eletto Giovanni Spano che subentra ad Emanuele Cadelano l'incarico per il giovane presidente triennale all'atto del suo insediamento ha subito posto il problema e l'esigenza di una serie di interventi per il rifacimento e adeguamento delle strutture che portino ad una elevazione dei livelli di produttività conosciuti nel tempo non solo strutture ma anche manutenzione dei fondali elemento indispensabile per favorire la circolazione delle acque e quindi l'habitat per le specie ittiche la valle di Marcedì si estende per circa 2000 ettari e comprende anche gli stagni con termini di San Giovanni Fossaus e Santa Maria specchi d'acqua minori collegati tra loro nei quali si riversano le acque del rio Mogoro ma probabilmente al nuovo gruppo dirigente del consorzio spetterà anche il compito di sollecitare gli interventi di bonifica del villaggio e la costruzione del raddoppio del ponte opera sempre annunciata come imminente ma che si perde nel tempo voltiamo pagina le scarpette rosse giungono al festival di Sanremo sentiamo i servizi le scarpette rosse emblema della lotta contro il femminicidio e la violenza contro le donne giungeranno al festival della canzone italiana sarà Paolo Palumbo chef oristanese di 21 anni malato di sclerosi laterale amiotrofica prima della sua esibizione a donarne un esemplare ad Amadeus sul palco del teatro Ayriston l'iniziativa dell'assessore all'artigianato del comune di Oristano Puppa Tarantini che ha affidato a Paolo il simbolo in ceramica dell'impegno contro la violenza di genere da anni siamo impegnati su questo fronte con le scarpette rosse in ceramica Oristano insieme a tutte le città aderenti all'associazione italiana delle città della ceramica è riuscita a trovare un simbolo forte in grado di evocare immediatamente i valori a cui ci ispiriamo ringraziamo Paolo Palumbo che sarà il nostro ambasciatore sul prestigioso palco del teatro Ariston e confidiamo sulla disponibilità di Amadeus e su quella del numerosissimo pubblico del festival affinché il messaggio di solidarietà e di civiltà diventi sempre più forte e aiuti a combattere il triste fenomeno della violenza contro le donne il giovane chef oristanese donerà ad Amadeus anche una coppia della maschera della Sartiglia sabato 8 febbraio la premiazione del concorso che realizzerà il manifesto ufficiale del subbandu della Sartiglia vediamo i tamburini e trombettieri della Proloco Oristano e la dirigenza scolastica del liceo artistico Carlo Contini di Oristano hanno organizzato per sabato 8 febbraio alle ore 10 presso l'aula magna del liceo classico De Castro la premiazione dell'opera vincitrice del concorso di idee che ha visto protagonisti gli studenti del liceo artistico chiamati a realizzare il disegno che diverrà il manifesto ufficiale del subbandu di domenica 23 febbraio l'iniziativa nasce dall'idea dei musici della Proloco di avere una rappresentazione visiva dell'importanza che subbandu riveste all'interno della Sartiglia dal 1973 a oggi il bando è il primo importante momento della giostra e sabato 8 febbraio una giuria composta da Gianni Ledda presidente della Proloco di Oristano e dal direttivo dei tamburini e trombettieri della stessa Proloco premierà l'opera scelta quale vincitrice tra le cinque selezionate in precedenza dai docenti che insieme al dirigente scolastico e agli studenti hanno reso possibile il successo dell'iniziativa dimostrando grande sensibilità e partecipazione e questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo redazione chiocciola su per tv oristano punto it o sulla nostra pagina facebook buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.